buongiorno a tutti da pancopallino oggi ci troviamo a castel del piano e questa è la chiesa di santa maria dove abbiamo un concerto di quattro campane in la tre e oggi è domenica 29 novembre e a mezzogiorno per l'angelus festivo ascolteremo la distesa del campanone a dopo a Grazie. 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 Grazie.